buongiorno amici edifici ma come potete guardare portato mi valigetta con peso il giorno di oggi voglio fare un circuito tabata tabata però con peso qual è nostro obiettivo tonificare tutto nostro corpo tonificare la gamba, il gluteo, il bicipiti, la spalla, l'abdomen tutto il corpo già fatto prima un allenamento tabata senza peso, oggi con peso andiamo a tonificare nostro obiettivo meterte in forma da pablo le ricordo lo importante di tutto questo è essere costante e disciplinato perché i esercizi che faccio io lo fa Pinco Palinco lo fa Claudio lo fa marcelo lo importante disciplinato e essere costante così tu vas a lograr grandi cose in la vita non solamente nel allenamento ok vamos a iniziare importante per oggi abbiamo bisogno il tapetino e anche la vitamina pura acqua 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 buona 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 ok vamos a fare un pochino di movimento e viare una informazione a nostro corpo che faremo attività fisica. Muevo un pochino i bracci, avanti, indietro, indietro, crucio, ta 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 ta, prendo qua, indietro, cambio, avanti, cambio, 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 indietro, è perfetto, 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 mi piego, salgo, ta ta, seranno 7 esercizi, 7 esercizi, ogni esercizio lo ripeto 4 volte, 20 segundi di allenamento con 10 segundi di recupero, vas a sentir che tuo corpo si va a trasformare, domani sentirai tutto il cambio, ok, perfetto, ho qua mi tapetino, ho mi tapetino, a metter qua il peso, importante, il peso è molto relativo, tu prendi un peso che sia corde, 5 kg, 10 kg, 30 kg, questi sono 7 kg, 6 kg, non 6 kg, 6 kg che voglio allenarmi per il giorno di oggi, ok, perfetto, cerco il timer e iniziamo nostro circuito, tabata per tonificare, preparate, 3, 2, 1, via, prendo il peso, 1, il primo esercizio, vamos a fare un pochino di skiping questo, di skiping, ta ta ta, ta ta, skiping, skiping con il peso, ta ta ta, sembro che ho in camera lenta, si, 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 ta ta ta, tu puedes modificar los pasos, lo paso, los paso, los paso, ta ta, si, okay, perfecto, perfecto, questo lo repito, 3 vuotras sempre, exterceso ejercicio, exter hace su necciso, exterce, 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 exterce. exterceso, exterce, 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 va, tu puedes modificarlo, su, abre, 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 Abre la spalla Come un cavallo Come un cavallo Si, continuo Andiamo per il terzo Per il terzo Il terzo, il terzo Oggi no c'è il sole Però tu sei il sole Amortigua Si, 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 si Madre dios Se senti, llame, le spalle Ultimo, 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 ultimo Con sempre il esteso Ah 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 avanti con scotte, avanti, cambio, il ginocchio, non supera la punta del piede, diritto, vado dietro, cambio, perfecto, va a essere nostro primo, sepa il exceso, ok va, avro, 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 avro. No facciamo indietro, 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 sempre lo stesso esercizio. Guarda, guarda qua, ta, abro, ta, abro, ta, abro, ta, abro. Ai ai ai, 60, 60, ultimo, 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 otro qua, ta, abro, ta, me siedo, ta, me siedo, ta, ta, Ok, perfetto. Nel prossimo, vamos a fare bicipiti, bicipiti. Guarda, ta, 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 esquina dirita. Me ayudo con el abdomen, ta, 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 ok, perfetto. Me giro un po', abro, a la espesa mitura de la espalda. Me siedo, te li tooki. Fischecoik. I am almost a me, like. Vale. Ok, opponents rem prosecutors. I am almost the most mean, ashe, lis, latin. Uwe you are using niceties. Ganze, episod, poli are a launch. Bicipiti! Oh! Ringbery! nuovamente di fronte, di fronte, con il terzo, con il terzo, con il terzo, con il terzo, si, vamos con il terzo ok, ultimo, 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 ultimo ok, poi continuiamo, facciamo il stacchi, facciamo il stacchi e dopo abrimos un pochino la, facciamo un po' di bolo, un po' di spalle anche, guardate qua, guardate qua, esciendo, salgo, abro, esciendo, salgo, abro, esciendo, schiena diritta, abro, escienda diritta, guarda, salgo, abro, esciendo, salgo, abro. cambio, 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 guardate il stacchi, schiena diritta, salgo, abro, esciendo, 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 salgo, ab ok, lo faccio da fronte, da fronte, da fronte se sente bene, nessuno ti regala niente il ultimo sta qui salgo salgo abro nuestro proximo nuestro proximo vamos a hacer un pequeño piegamente vamos a hacer piegamente con dorso piegamente piegamente salgo piego salgo piego piego pa pa ok lo repito de esteso lo repito lo repito lo repito pa pa primo piegamento topo dorsi topo dorsi topo dorsi pudo cambiare, cambio, cambio cambio de viva 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 madre de dios si senti, si senti ultimo ultimo si 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 a nuestro proximo vamos a parar su cuota es sentadilla sumo oscua sumo guardate los grandes grandes 1 2 3 de fronte 1 2 3 ta fronte 1 2 3 el primo ta arribando el soli ta arribando el soli madre de dios 60 se va 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ah ah vamos vamos cambio 1 2 3 1 2 3 va va 1 2 3 va 1 ultimo 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 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 2 ok andiamo con abdominales abdomen 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 va salgo 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 ay 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 60 60 60 nuevamente tra 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 ai 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 vamos 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 con estos allenamentos tabata son cortos pero eficaz ok si ah si uh si ah se va se va ah fuerza ah madre de dios ah vamos 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 60 60 ultimo ultimo esforzo ultimo ah 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 lentamente 3 lentamente lentamente ah si va ah lentamente ah 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 cuesto reales cuesto reales jajaja yo solamente te mostro el ejercicio aunque aunque lo facho cuesta una cosa un entrenamiento mutuo te lo mostro tu lo fai tu sientes fatiga yo siento fatiga pero vamos a reyunger nuestros objetivos como es de tu prima ese es el constante indisciplinato te porta a la victoria no te dimenticarte de far stretch de cuore pablo si ancora no te estas inscrito inscribete a eso jajaja ay 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 ases son que se ases tu sai no te ases si do